Un centro di permanenza per i rimpatri in ogni regione non solo non si frena ma anzi si accelera. Progetti al via dopo l'estate annuncia il sottosegretario all'interno Nicola Molteni che per indorare la pillola assicura che nulla sarà calato dall'alto. Come presidente dell'Anci Veneto ma anche come sindaco di Treviso Mario Conte da una parte parla di strutture fondamentali ma dall'altra non nasconde i timori degli amministratori locali. Io credo che i CPR e questi centri di rimpatrio siano certamente importanti poi ci sono all'interno delle province delle comunità che hanno già dato da un punto di vista dell'accoglienza e credo che Treviso da questo punto di vista sia un esempio a livello nazionale perché ha sia centri di accoglienza come la caserma Serena e siamo anche impegnati sul fronte dell'accoglienza diffusa. Come comuni del Veneto siamo un po' preoccupati perché il Veneto è una regione che ha già dato molto da un punto di vista dell'accoglienza. Dieci in questo momento i CPR in Italia, solo nove quelli attivi. Ne mancano dunque all'appello altrettanti. In qualsiasi zona si decida di posizionarlo, quella di un centro in cui trattenere i migranti irregolari in attesa di espulsione è una presenza scomoda per comuni e province, siano politicamente di destra o di sinistra. Dal governo assicurano di avere già pronti studi di fattibilità che però garantisce Molteni devono trovare corrispondenza nella volontà territoriale. Da qui la richiesta dell'Anci di discuterne preventivamente. L'appello che faccio al governo è quello di aprire un tavolo di confronto con i territori per capire se e quali possono essere i territori oggi destinati a questo tipo di nuova formula di ospitalità. Ovviamente Treviso da un punto di vista dell'accoglienza e dei centri di accoglienza ha già dato.